Porca madossa sono morto Mi sparano ovunque praticamente Il c**o ho preso l'arma no no ho preso la cappa che c**o l'ho fatto edget Io sono morto Il c**o l'ho fanizzato Non è affanissimo In quattro, non ho preso la niente Non ho preso la niente Non ho preso la niente Cioè hai visto Pablo questa cosa è tutto Ma i Drio ci sono enti tutti e pure C'è qualcuno da solo Il senso? Perchè per il torneo di sabato Perchè io ho il mio compagno di due ma ci manca il terzo Ah ci sono tutti in teoria che potremmo farlo Il pelle Il pelle Allora Gli nascotti sono io, Mattia e... Che cosa funziona? E cicciolina E mongrangelo Mongrangelo quanto c**o è forte ragazzi Eh è un best Tu mi fai un forte su Rocket League Ho trovato un partner su Rocket League E una mano Dove dove? Così che Smiro morì Arriva 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 Oh mio Dio Ah sono quasi vivo Ciao vivo Ciao vivo Ciao vivo Ciao vivo Sai chi ti ha salvato? Eh? Sai chi ti ha preso la carta disco? Io Grazie E' uno Angelo A che è il quale Issi Uguale Venti la Mi è Sue Sue Non lo ricordo Davvero non sai chi è easy Dicono tutti che è best player in Ita Anche se sappiamo tutti che No ho sentito l'ho visto Non mi ricordo più chi è Sappiamo tutti chi è il best player in Ita Vero Pablo? No Fast creature Ma che cazzo è? C'è un tizio qua Porca puttana Dai ma ti faccio scarne a fondo se vinci Ah ma che cazzo Ma finiti mazza Dai quanta vita Dai E' one shot questo ragazzi Sta scendendo E' qua da me E' qua da me Luca Luca 10 10 8 6 4 2 2 2 Motti 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 Ssshhh Per me la scheru Meglio infatti Aspetta se non scildini me li porto Sono 2 Sì, mi è venuto Smiro Arrivo Sai che Fast Creature è la prima persona che mi chiama Smyro Coppa di Pablo Smyro Ma c'è Zero Key qua il nabbo Mi chiamo Smi Sì Smyro Tu lo vedi Luca? Chi ha zero kill? Sì Un po' scarso Un po' pittino C'ha un bersaglio con il culo Primo che spawn si prende lo scioglio Non puoi spawner? Eh vabbè dai però Qui mette i viaggi e... Munition, por favor Por favor Io non ho munizioni Eh queste le voglio Ah Davy la java testa Non so un po' Ladlo Non ho rubato niente Oh munizioni a me Emano Aspettiamoli qua che tanto dovrebbero uscire Emano 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 L'ho fatta la fatta la fatta la fatta la fatta la fatta Perché io stavo portando scudi Stai arrivando? Stai arrivando? Stai arrivando? Stai arrivando Colpi Emano 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 Stai arrivando con i bambini allegri Emano Emano Ma subito muore Chi siete? Sono da voi? Guarda che sono qua sopra Stanno sulla navicella stanno È uno Due Stanno scappando adesso? No no Sì ora 22 22 Blu ancora La Pablo Ragazzi 41 No Sono andato Non c'è nessuno la Pablo La Pablo Era morto Adesso Un altro è la eh Si visto Prendiamo una vicenda Questo è devasto Ha messo la la Ah ah Ha una sorretta Spagli la scala Spagli la scala Emano Non ha senso Laserato Spagli la scala Basta fare così Spagli la scala Spagli la scala Si No Era qui non lo scudi Cioè Eh io avrei bisogno colpi Colpi di pompa Ma che scudo avete? Io non ho scudi Io colpi Ti mazzo tutto A me mazzo Raga mazzo che non zero No Eh no mazzo Dio Di 9 0 È 9 0 Non posso buildare io Eh mazzo Eh mazzo Sono 200 Tieni È mazzo Ho 200 Ho 275 Non lo farò io Ma Vabbè va però Qua c'è un merito Posso portarmi Anche bene Porto con tutto Mi faccio le mele qua Ma Tu? No no eh Però io io mi sia bugato Gente si vanno a vicello No no la la Io sono in safe Io mi dicevo Va bene Ok Oh stanno spando col cecchino Gente che sta la Che faccio così? Dove vanno cosciate con gli altri No 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 Magari lo si può son 4 fonti Ai Ecco Muoto 1 No che sto scappando Sta volando Due volte l'ho tirato F*** Chi è che sta filando? Dov'è andato questo? È sotto 82 Morto? Ho mia scheda regà Dov'è? Dov'è? Non lo vedo Ok la prendo Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Bombardamento Riuscite ad andare a lande? E' da me ci gente Qua ci sono un batto di gore WTF? No raga sto raggrando tantissimo Non voglio mi fa andare su Oh Dove dove dove? Andiamo a lande andiamo a lande A lande Che se ne è fatto Qua c'è un team Qua c'è un team Fortissimo sono Ne vado a animare Luca intanto Ah che male Nella serata Davvero Emma? Cosa? Vabbè ho capito Siete fortissimi Mamma no No Pablo sei da solo Aspetta Non lo so Non lo so Arrivo Uno è sopra Sopra sta arrivando Arrivo anch'io adesso Tento Le canade Finito Oh non è entrata unita questo Niente Uno non ha più shield però Uno è morto eh Uno è terra Vi ricordo Sopra che arma di merda che c'ho Fa cagare st'arma oh A terra uno E' l'ultimo rimasto E' l'ultimo Ok Morto Vedi la mia scheda veloci Tanto ho avuto le strade Where is? E' c'è non lo so Va vero vedo lo vedo E' un shield Un shield Io ce l'avevo 20 shieldini Ce l'avevo Ah che scherzo Andate a prendere Colpi pompa? Ah Adesso vado a rinnovare No non tanto ce la facciamo Ce la facciamo ce la facciamo Ti vuoi? Si Tanti ce l'ha bene dal massimo E ma? No no quanto manca il bus Regà scolpi pompa? Ne ha più o meno metà Un casino di kill Abbiamo 23 kill E mancano gli ultimi 4 Canal? 6, 4, 10 Qualcuno ha un falò No 25 siamo Un falò raga portatemi un falò Così lo reagimo E' eccolo Dove? E' una pila trovata dell'airdrop Eh però Se mi buttate il falò Io muoio Ah eh eh Pablo E' un falò 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 Non ci sono fuori eh? E' un falò Uoh eh Ragazzi Sto buttando giù Ma qui so Di dove 28 1 Luca 1 da te Arrivo Dietro Dietro Sono morto Non ammazzo VIZO NO mi spammano questi non posso manco curarmi per appena entri là perchè essendo 4v2 se uno si ferma a testa una terra arrivo luca arrivo subito arrivo subito faccio sti scudine arrivo ci sono le bende e ce lo farò io fatti i scildini ci sono le bende dove è morto tizio qua davanti a sopra colpi bomba materiali vieni qua dai pablo sono in tanti sono tutti one shot no luca perché non sei curato no luca penso di entrambi stanno che rompe i cocomeri spargli la chiesa per favore no, te li fai no, te li fai sotto l'albero cala guardi 1-1-4 caldo, io l'altro è 1-1 oh, madonna no, no, no scusa, stupido no, 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 no no, no, no ai, non, no Oh non rompere i coglioni madonna Ok va Va bene non gioco più basta vaffanculo Sto fai tanto mi dici calma lo so è quello che devo fare Si non riesci a scendere con le due scale madonna Magari scendevo veloce se non mi faccia cadere Magari no Ok Non c'è Ok 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 Ma scusa ma quanta vita ha questo? Eh madonna Gigi, quante kill? Io 7 8, 6, 7 Quindi 14 più 7, 21 Poi manca 1 8